C'è anche un po' di Umbria nel titolo mondiale vinto dalle italiane nella ginnastica ritmica. C'era infatti anche la spoletina Agnese Duranti della società La Fenice fra le farfalle azzurre arrivate al primo posto. 16 anni, la Duranti è salita sul podio come campionessa del mondo a squadre nella specialità dei 5 cerchi. Un grande successo davanti alla Russia. Quello conquistato all'Adriatic Arena di Pesaro è il primo mondiale, il primo oro per la giovane campionessa.